Sì, ha preso la notizia di ieri, la decisione del Collegio di Garanzia, abbiamo già sentito la federazione, ha avviato con una lettera un percorso di chiarimenti sulla definizione dell'iter eventuale da intraprendere sulla base delle norme federali. È chiaro che siamo in una situazione molto delicata, la federazione è il primo interlocutore istituzionale, le norme federali prevedono la possibilità di avviare un percorso con una manifestazione di interesse che dia continuità al calcio terramano ed è il nostro obiettivo, l'obiettivo prioritario di tutti. D'altro canto, l'altro interlocutore è la società che ha già preannunciato e confermato anche nella giornata odierna, la volontà di ricorrere al TAR ed è ovvio che laddove ce ne siano le ragioni, sono convinto, non ho nessun motivo per non pensarlo, che ci siano ragioni significative per garantire la tutela e la conservazione della Sede C anche di fronte alla giustizia amministrativa. Sosterremo questa attività e questa azione ovviamente istituzionalmente con tutte le nostre forze, ma senza poter correre il rischio che il decorso del tempo possa appunto pregiudicare la continuità del calcio terramano. Ecco perché ho già avviato per quanto di mia competenza la fase diciamo così esplorativa con la federazione. Questa sua iniziativa preclude ogni possibilità di partecipazione dell'attuale dirigenza? Ma questo vediamo, vediamo quale sarà anche la risposta della federazione, si tratta anche di una verifica legata alle norme, alle normative che ovviamente non mi sento di fare in questa fase, in questa battuta, in questa prima battuta di interlocuzione con la federazione. La cosa che però mi preme è ricordare, come ho già detto, è rivolta sia alle istituzioni, tutte sportive e non alla società attualmente in carica e a chiunque voglia avvicinarsi per fare calcio a Teramo. La nostra città merita assolutamente rispetto, la dignità assolutamente che le appartiene non può essere scalfita da nessuno. Ecco perché ogni azione, ogni interesse che verrà manifestato dovrà avere soprattutto queste caratteristiche, una prospettiva di lungo termine, serietà nelle proposte, quindi non interessi che non abbiano le gambe per andare avanti, solidità e serietà e rispetto. Questi sono i principi di carattere generale con i quali ci approcciamo a questa fase, a chiunque voglia avvicinarsi per dare una mano al calcio della mano ad andare avanti. C'è un messaggio di rassicurazione che può mandare la tifoseria in questo momento la parte sicuramente più danneggiata da questa situazione? Sì, a loro va sicuramente il pensiero più profondo, non mi va di illudere nessuno, ma il messaggio con forza che possiamo mandare è che ci sono le istituzioni che hanno preso in mano la situazione, il sindaco per quanto di sua competenza, nel dialogo anche con le altre istituzioni, quindi non siamo fermi e andiamo avanti per garantire, proprio per i tifosi, proprio per una comunità calcistica straordinaria quale è la nostra, la continuità del calcio terramano.